Un saluto ai telespettatori di Antenna Sud e a quanti ci seguono sui nostri social e sui settimanali lo Ionio e l'Adriatico. Ci troviamo a Mari a Santa Scolastica, l'antico monastero di Mari diventato un museo provinciale gestito dalla città metropolitana e inizia qui un viaggio sicuramente affascinante in tutta la Puglia in compagnia della dottoressa, dell'architetto Maria Piccareta, segretario regionale Puglia del Ministero della Cultura. Bentrovata architetto. Bentrovata, grazie. Ecco, quali sono dottoressa le funzioni e l'articolazione della struttura che le dirige in Puglia? Sì, la struttura che dirigo è il segretariato ed è un ufficio di coordinamento degli uffici del Ministero della Cultura in Puglia. Si occupa di gestire dei fondi, non per tutti, ma per alcuni di questi uffici, quindi come stazione appaltante e potremmo dire che coordina la gestione del personale, di tutto il personale che lavora nel Ministero della Cultura appunto nella Puglia. Anche ha un coordinamento nella gestione del piano paesaggistico insieme con la Regione e quindi in generale della tutela appunto del patrimonio. Ecco, andando a illustrare provincia per provincia le sedi, le strutture operative, quali sono? Sì, noi abbiamo in Puglia quattro soprintendenze, di cui una è la soprintendenza nazionale per il patrimonio subacqueo e le altre tre sono soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, per le province di Brindisi e Lecce e per le province di Bat e Foggia. Poi abbiamo una direzione regionale musei che si occupa di tutti i musei statali che sono in Puglia, un museo nazionale che è il museo Marta di Taranto e la soprintendenza è una archivistica e bibliografica per la Puglia e abbiamo un archivio per ogni provincia, un archivio di stato per ogni provincia. In più in Puglia a Bari abbiamo la biblioteca nazionale che si trova a Bari, a Firenze e a Roma soltanto. Ecco, com'è cambiato il rapporto con il territorio, quindi diciamo la sinergia con le istituzioni? Nel tempo è cambiata la percezione dei nostri uffici e probabilmente anche per un cambio quasi di società, mi permetto di dire, e anche forse perché troppe poche volte si parla delle discipline che noi siamo chiamati, sulle quali noi siamo chiamati a lavorare, si parla poco di diritto al patrimonio culturale, al patrimonio pubblico, si parla diciamo poco di paesaggio nell'accezione di bene comune e quindi dal punto di vista appunto della salvaguardia di alcuni, dei valori culturali, storici che sono il bene comune, paesaggio e diciamo viene fatta una narrazione un po' troppo spesso con accezioni negative e il che non fa male agli uffici ma secondo me fa male al territorio che ha quindi un rapporto con un'istituzione che poi è l'istituzione legata al patrimonio culturale quindi con un significato anche emotivo particolare non sempre corretta diciamo, non sempre giusta e quindi ne ripaga appunto il territorio più che gli uffici poi gli uffici vanno avanti e vanno per la loro strada. Certo, ecco architetto, il Santa Scolastica il restauro è in corso e dovrebbe ultimarsi nell'estate prossima a cura della Edilco di Altamura, ecco ci puoi illustrare il cronoprogramma e quali lavori in particolare vengono eseguiti? Sì, questa è l'ultima parte dei lavori, Santa Scolastica è un museo della città metropolitana di Bari con un patrimonio della città metropolitana di Bari che è stato con gli ultimi lavori inaugurati un anno fa, diciamo è stato implementato e quindi i vari corretti sono stati diciamo arricchiti con una parte di patrimonio statale archeologico, è un caso, un unicum perché che sappia io non ci sta un'altra città metropolitana, un'altra provincia oppure museo provinciale o di città metropolitana che abbia un patrimonio del genere. I lavori che stanno in corso è l'ultima parte appunto mirata alla realizzazione di tutto quello che è a servizio della fruizione del museo in più anche ad una parte di conclusione diciamo di quelli che sono gli scavi archeologici e di collegamento tra le due anime perché il complesso di Santa Scolastica è abbastanza articolato e quindi il museo si sviluppa in un ex convento molto, diciamo architettonicamente anche ha un grande valore. Questi lavori si concluderanno con l'estate e dopodiché riconsegneremo tutta la struttura sia il monumento che appunto tutto il suo patrimonio ricchissimo esposto alla città metropolitana che già oggi comunque lo gestisce e lo apre al pubblico. Ecco abbiamo parlato di Santa Scolastica, ci può naturalmente per il tempo a noi disponibile illustrare i progetti conclusi e quelli nei tinere i più importanti insomma? Il segretariato della Puglia ha una storia di grande stazione appaltante e ha un numero notevole di interventi che si raggirano intorno ai 140-150 più o meno progetti, tutti abbastanza in corso, alcuni proprio con i lavori in corso, alcuni si stanno facendo gli appalti per i lavori, altri con incarichi ai professionisti e noi ci siamo concentrati negli ultimi sei mesi nell'appaltare i lavori finanziati con i fondi europei PON del Ministero della Cultura che diciamo hanno una scadenza abbastanza vicina e quindi a garantirne diciamo l'utilizzabilità mi verrebbe da dire. Sono sette progetti molto impegnativi distribuiti per tutta la Puglia e di interventi abbiamo qui adesso si sta svolgendo la gara per l'appalto a parte dello scavo di San Pietro in cui abbiamo avuto modo già di parlare perché verrà installata l'opera dei tre soldi e questo interesserà appunto la città di Bari ma abbiamo dei cantieri aperti a Lucera, la fortezza di Lucera, abbiamo cantieri aperti al castello Affonzino di Brindisi, abbiamo cantieri aperti a Lecce, il castello di Lecce, la sede della soprintendenza, un altro palazzo molto importante, tante chiese anche quindi con una collaborazione diciamo molto forte con le diocesi pugliesi e ci sono veramente tanti 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 progetti, tanti tanti cantieri. In più arriveranno anche altri fondi dovuti per esempio a, stiamo partecipando per esempio alla commissione per il PNRR dell'architettura rurale e lì per esempio c'è un spaccato interessantissimo di una realtà tra patrimonio vincolato e patrimonio non vincolato molto molto interessante, c'è un territorio che partecipa con numeri elevatissimi perché è la regione con più progetti in Italia, c'è numeri molto elevati chiedendo, appunto scegliendo di tutelare e valorizzare e rendere fruibile questo minuto patrimonio che però è il tessuto connettivo di questi monumenti di cui ci occupiamo più spesso. Ecco, chiese, musei, mostre, castelli, masserie, cantieri, di tutto e di più. Ora c'è anche un'altra questione che impiede quella delle energie rinnovabili e qui anche voi il segretariato sta intervenendo. Come? Il segretariato ha un ruolo di coordinamento anche su tutte quelle procedure di valutazione di impatto ambientale o comunque tutte quelle procedure paesaggistiche che vedono impegnate in prima linea le sovrintendenze comunque. Sì, c'è un problema di compatibilità paesaggistica e molto spesso diciamo c'è questo problema e noi stiamo cercando anche di trovare delle alternative o comunque di costruire delle alternative perché si possano perseguire gli obiettivi soprattutto quelli legati alla singola famiglia cioè alla dimensione più piccola diciamo e non ai grandi impianti con delle soluzioni che siano più vicine ai valori culturali, storico-culturali del nostro patrimonio. è un lavoro lungo che però va un po' in lungimiranza nel senso che cerchiamo di dare un'alternativa a questi impianti che diciamo troppe volte risultano essere non compatibili con il nostro patrimonio. Possiamo pensare ad esempi eclatanti come per esempio il centro storico di Ustuni e se immaginiamo il centro storico di Ustuni con tutti i tetti, con i pannelli certo cambia completamente la percezione di una città, di un centro storico che si è voluto, si è tutelata quelle immagini anche da parte dell'amministrazione comunale quindi diciamo c'è un dibattito in corso e stiamo facendo anche, siamo stati promotori come segretariato di un breve ciclo proprio di incontri sul paesaggio, stiamo facendo in questo periodo proprio perché per dare degli strumenti di riflessione senza voler convincere nessuno, solo per dare strumenti di riflessione e capire anche quali possano essere delle soluzioni da attuare in questo territorio per far combaciare necessità ambientali con tutela pasaggistica che devono andare per forza a braccetto, cioè dobbiamo trovare una soluzione. Certo, ecco mentre parliamo sono qui a Santa Scolastica degli studenti in visita, il rapporto è importantissimo con il mondo della scuola e con l'università, ecco come state interagendo? Bene, è un rapporto molto importante perché il mondo dell'università e della scuola è il mondo di formazione a diversi livelli, l'università forma specialisti e quindi persone che un domani lavoreranno con specificità su determinati temi e il nostro ministero si rivolge a tutti, quindi è più trasversale ma ci serve assolutamente la specificità del mondo universitario per poter fondare le nostre attività di frizione e valorizzazione aperte a tutti, anche a chi ha meno strumenti e noi dobbiamo fornire a tutti gli strumenti per partecipare in maniera consapevole e attiva. Per quanto riguarda la scuola è fondamentale, io lo reputo assolutamente fondamentale in quanto noi dobbiamo intercettare i giovani di oggi perché sono il nostro futuro, noi dobbiamo parlare con i giovani di oggi e fare in modo che si affilino, non so come dire, al patrimonio perché lo sentano parte di se stessi e questo patrimonio parli ai giovani perché un domani occuperanno i nostri posti e quindi per dare un futuro è necessario porsi, fare in modo di porre che le nuove generazioni si pongano in ascolto, capiscano che abbiano un dialogo con queste nostre preesistenze e questo è importantissimo e solo frequentandoli, facendo progetti comuni si può ovviamente cominciare a dialogare, acquisire un linguaggio comune e dialogare in comune. Questo non vuol dire assolutamente banalizzare o semplificare, semplicemente intercettare i linguaggi e il modo di vivere il patrimonio dei ragazzi e così da travasare anche la nostra passione, l'appartenenza, il senso anche di ritrovarsi intorno a una testimonianza. Io faccio sempre l'esempio, io sono di Roma e quindi faccio sempre l'esempio che chiunque da tutta Italia venga a Roma e guardi il Colosseo non pensa che è una cosa dei romani ma lo sente parte di se stesso. Questo dobbiamo lavorare, il Colosseo parla da solo ovviamente, noi lavoriamo con un patrimonio meno noto ma molto importante e altrettanto bello e quindi dobbiamo fare in modo che questo parli anche ai giovani. Diceva la dottoressa, io sono romana, in realtà la dottoressa scorre sangue pugliese nelle vene della dottoressa Piccarreta che ha origini coratine, mi pare, il papacri, buonsangueramente è stato ordinario di scienze delle costruzioni alla sapienza di Roma. Ecco dottoressa, siamo informati come vedi. Ecco il suo rapporto con la Puglia, il suo amore con la Puglia allora. Sì, mio nonno era decorato e diciamo sempre un rapporto di famiglia, diciamo così. Lui poi dopo fece tutte e due le guerre, però dopo la seconda guerra mondiale non volle più tornare qui e quindi ha un rapporto di racconti, di senso di famiglia molto forte e fuori di frequentazione limitata, a dire la verità appunto perché fisicamente non c'era questo ritorno. Poi per strane la vita, no? Così a parte le vacanze, così mi sono ritrovata a decidere della sede come superintendenza e c'era Lecce, ho chiesto Lecce ma più che altro inconsapevolmente. Poi dopo il lavoro mi ha portato appunto a Bari, l'interim di Bari, ho gestito un po' tutte le soprintenze in Puglia, quindi sicuramente ormai dopo sette anni è un rapporto, è una mia seconda casa insomma. In più con il valore che è una parte delle mie radice di quei, quindi una parte di famiglia è qua ancora, insomma una famiglia molto numerosa, quindi sì sì. La Puglia come ce la può descrivere? È la Puglia. È vero che è una delle più belle regioni del mondo. Sì, anche se adesso dopo questa accenna alla mia famiglia può sembrare diciamo, però no, no, la Puglia ha enormi potenzialità secondo me, è una terra diciamo che ha dimostrato di saper acquisito negli anni una consapevolezza di quello che, del valore che ha e di tutto quel diciamo del tesoro che può raccontare. Adesso secondo me è una regione che deve un po', che si può permettere, anche se dico forse una cosa poco popolare, poco carina, che si può permettere di scegliere da che parte andare, come io penso al turismo, per esempio penso a tante altre diciamo anche politiche culturali, mi permetto, e può decidere da che parte andare proprio perché ormai è riconosciuta, cioè non deve dimostrare più niente a nessuno, ma è riconosciuto come sito, come meta, come ricchezza di patrimonio e quindi adesso forse è il caso di educare, usiamo questa parola, chi viene anche a rispettare e a permettere a chi abita di abitare in maniera tranquilla tutto l'anno e questi luoghi soprattutto i luoghi di grande attrattività e nello stesso tempo anche a raccontare e a narrare tutte quelle parti meno famose, mettiamola così, che però hanno un valore inestimabile. Quindi secondo me è una regione diciamo che può moltissimo ed è all'avanguardia per certi versi perché su tante cose è stata la prima ad affrontare tutta una serie, io parlando delle competenze nostre, è la prima in Italia di aver avuto il piano paesaggistico e per tanti anni è rimasta l'unica, con una visione di una strategia illuminante, tanto che oggi noi le risposte a problemi come la Xylella o altri problemi le troviamo dentro il piano paesaggistico che è volendo di sette anni fa, ma c'era una visione strategica di sviluppo del territorio che nasceva dalla situazione, dall'anima del territorio, dalla struttura del territorio per cui è valida sempre insomma. Quindi la cultura al primo posto, la cultura e anche economia, il comparto che le segue complessivamente da lavoro a centinaia e centinaia di persone e con lei tra l'altro da manager anche un rapporto inevitabilmente con le organizzazioni sindacali. Questo fronte, il confronto come avviene? Guardi questo fronte è importantissimo, io da superintendente ho sperimentato quelli che sono i partenariati pubblico privati perché sono convinta che questa regione proprio per il tipo di patrimonio che ha possa sfruttare questo tipo di rapporto e magari lasciare a strutture più tipo Castel del Monte, insomma non è di competenze da direzione musei, ma il discorso della bigliettazione, il discorso canonico, dell'entrata eccetera. Però per il resto è un territorio capace di lavorare all'interno di obiettivi molto mirati ma perseguendo appunto questi obiettivi e proponendo soluzioni. E su questo io ho avuto delle esperienze molto interessanti ed esperienze che continuano diciamo ad andare avanti, io non so più in quei territori, però non c'è solo questo, secondo me c'è tutto un filone sul quale si potrebbe cominciare a dibattere che è quello della ricerca e della ricerca proprio perché la ricerca e l'approfondimento e l'esperienza che c'ha in questa regione possa aiutare a trovare quelle soluzioni laddove ci siano, lei accennava prima alle fonti rinopili, laddove ci siano delle contrapposizioni, bisogna sforzarsi a trovare la soluzione. Tutelare vuol dire che se non posso perseguire l'obiettivo in un modo ci saranno tanti altri modi da perseguirlo, basta trovare quello giusto o quello che salvaguarda meglio i valori. Ecco, forse su questo si potrebbe sfruttare, scusatemi l'espressione forse non troppo carina, però le capacità e anche l'intraprendenza della Puglia proprio per arrivare a queste soluzioni, a sperimentarle insomma assolutamente. Diciamo che stiamo un po' lavorando anche a questo, con la regione, con gli altri enti insomma territoriali. territoriali, in media, sat virtus, insomma. Noi ringraziamo i telespettatori di Antenna Sud e quanti ci seguono sui nostri social e sui settimanali L'Oionio e l'Adriatico e ringraziamo in particolare l'architetto Maria Piccarita, segretario regionale Puglia del Ministero della Cultura. Grazie architetto. Grazie a voi, a presto. Grazie a voi.